A largo delle coste della Corea del Sud, un traghetto con a bordo 476 persone è naufragato. I mezzi della guardia costiera sono sul luogo dell'incidente. Secondo le prime informazioni, almeno 200 persone sono state tratte in salvo. Una vittima è confermata. L'incidente è avvenuto a circa 20 chilometri dall'isola sud-occidentale di Byung-pyung. Circa 320 persone a bordo sono studenti in gita scolastica. Le operazioni di salvataggio procedono mentre la nave continua ad imbarcare progressivamente acqua.